Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. Oggi ti propongo un semplice quesito di geometria piana. Su una circonferenza di raggio uguale a 2 cm vengono disegnati 6 punti, ognuno equidistante dal precedente e dal successivo. In seguito, come puoi osservare, vengono tracciate altre 6 circonferenze più piccole, tutte tangenti fra loro, ognuna avente come centro uno dei 6 punti disegnati in precedenza sulla circonferenza più grande. In questo modo si viene a creare la figura di colore blu che vedi nell'immagine, simile a un esagono o a una stella a 6 punte, ma con i lati curvilinei. Riesci a determinare l'area della figura blu? Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. Ora ti voglio mostrare due possibili procedimenti per giungere alla soluzione. Il primo è questo. Congiungo i 6 punti sulla circonferenza grande e ottengo un esagono regolare. I punti di tangenza fra le circonferenze piccole appartengono ai lati dell'esagono, poiché la perpendicolare alla tangente comune alle due circonferenze nel punto di tangenza passa per i rispettivi centri. Osserva il seguente triangolo. Si può facilmente dimostrare che ha un triangolo equilatero, poiché ha due lati uguali al raggio della circonferenza grande, che quindi sono uguali fra loro e l'angolo compreso fra questi due lati uguale a 60 gradi, poiché è la sesta parte dell'angolo giro. Dunque, un triangolo isoscele che ha l'angolo al vertice uguale a 60 gradi ha anche i due angoli alla base che sono questo e questo uguali a 60 gradi e quindi, avendo i tre angoli uguali, è un triangolo equilatero. Siccome il lato dell'esagono è uguale al raggio del cerchio grande, cioè vale due centimetri, e il raggio della circonferenza piccola è esattamente la sua metà, il raggio della circonferenza piccola risulta essere uguale a un centimetro. Siccome l'esagono può essere suddiviso in sei triangoli equilateri e in un triangolo equilatero ogni angolo vale 60 gradi, deduciamo che ciascun angolo dell'esagono vale 120 gradi. Esiste anche una formula per il calcolo di tali angoli. La formula è alfa, la misura di ciascun angolo del poligono regolare, è uguale a n-2 per 180 gradi fratto n, dove n è il numero dei lati del poligono regolare. Nel nostro caso n è uguale a 6. Sostituendo dunque n uguale a 6 nella formula, otteniamo alfa uguale a 6 meno 2, cioè 4, per 180 gradi fratto 6. E dunque, come già detto in precedenza, alfa è uguale a 120 gradi. L'area dell'esagono si può ottenere moltiplicando per 6 l'area del triangolo rosso. Determiniamo ora l'area del triangolo rosso. Applichiamo la formula area uguale a base per altezza fratto 2 e siccome in un triangolo equilatero l'altezza si ottiene moltiplicando la metà del lato per la radice di 3, otteniamo che la base è 2, mentre l'altezza è 1, la metà della base, per la radice di 3 e dunque l'altezza è radice di 3. Dunque, base 2 per altezza radice di 3 fratto 2 è uguale a radice di 3 e dunque l'area dell'esagono, che è 6 volte tanto, è uguale a 6 radice di 3. Ora, l'area dell'esagono curvilineo blu si può ottenere facendo la differenza fra l'area dell'esagono regolare verte e la somma delle aree dei 6 settori circolari in evidenza. Siccome l'angolo al centro di ciascun settore circolare vale 120 gradi, ci vogliono 3 settori per fare un cerchio completo. Dunque, l'area dei 6 settori equivale all'area di 2 cerchi di raggio 1 cm. Siccome l'area di un cerchio si ottiene mediante la formula area uguale raggio al quadrato pi greco ed il raggio è di 1 cm, l'area del cerchio piccolo vale proprio pi greco. Per concludere, l'area dell'esagono curvilineo blu si ottiene facendo la differenza fra l'area dell'esagono verde e il doppio dell'area del cerchio piccolo. Sostituendo i dati numerici, otteniamo che tale area vale 6 radice di 3, area dell'esagono, meno 2 pi greco, l'area dei due cerchi, cm quadrati. Ti voglio ora indicare un secondo modo di risolvere questo problema. Per prima cosa disegniamo una circonferenza concentrica a quella grande e tangente esternamente a tutte le circonferenze piccole. Successivamente disegni il seguente triangolo, congiungendo il centro della circonferenza grande a due centri consecutivi di due circonferenze piccole qualsiasi. Inoltre, se vuoi, puoi colorare di bianco la circonferenza appena disegnata. Puoi facilmente dimostrare che il triangolo appena disegnato è un triangolo equilatero, poiché ha tutti gli angoli uguali. Per quanto riguarda la sua area e anche la area di un cerchio piccolo, valgono le stesse cose dette in precedenza e dunque l'area del triangolo misura radice di 3 e l'area del cerchio piccolo pi greco. Il nostro scopo ora sarà quello di determinare la misura dell'area di questo piccolo triangolo blu con i lati curvilinei. Come puoi notare, possiamo ottenere tale area facendo la differenza fra l'area del triangolo e l'area di questi tre settori circolari con angolo al centro di 60 gradi. Sommando i valori dei tre angoli al centro otteniamo 180 gradi e dunque l'area dei tre settori circolari è uguale all'area di un semicerchio, cioè alla metà dell'area del cerchio piccolo ed è dunque uguale a un mezzo pi greco. A questo punto l'area del triangolo curvilineo blu si ottiene, sottraendo dall'area del triangolo verde, l'area di un semicerchio e quindi l'area del triangolo curvilineo blu è uguale a radice di 3 meno un mezzo pi greco centimetri quadrati. Ora che abbiamo determinato l'area di uno di questi piccoli triangoli con i lati curvilinei, possiamo ottenere l'area dell'esagono curvilineo come somma fra l'area del cerchio piccolo, qui al centro, e sei volte l'area di un piccolo triangolo con i lati curvilinei. Sostituendo i dati numerici e svolgendo un po' di calcoli, otteniamo per l'area lo stesso valore trovato in precedenza. Fammi sapere nei commenti qual è la tua soluzione preferita, oppure se ne hai trovata tu una diversa, magari anche più semplice. E se vuoi scrivimi se c'è qualche argomento di geometria che ti piacerebbe approfondire, in modo che io possa inventare qualche nuovo quesito. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao! Ciao!